perché la gente vuole ascoltare la mia musica ma non la tua o meglio come mai quando sto per pubblicare canzoni nuove i miei fan mi scrivono commenti come questi quindi che non vedono l'ora di ascoltarla mentre quando tu provi ad annunciare o a promuovere un tuo singolo la gente non ti ascolta in questo video parliamo proprio di questo quindi ti spiegherò che cosa sbagli e che cosa invece dovresti fare per migliorare e ottenere anche tu commenti come questi e di conseguenza aumentare i tuoi ascolti su spotify prima di cominciare mi presento ciao guerrieri io mi chiamo red sky sono musicista come te probabilmente e ho anche un'agenzia di marketing che si chiama ronin academy sempre per musicisti con cui insegniamo agli artisti questo quindi come creare contenuti virali che portano tante persone sulla tua musica che aumentano i tuoi ascolti che aumentano i tuoi follower tutto questo in cinque minuti al giorno e senza perdere la dignità stiamo cercando i prossimi 20 artisti da affiancare personalmente a settembre se vuoi essere uno di questi 20 artisti candidati prenotando una chiamata gratuita dal link in descrizione oppure scrivimi info su instagram per avere maggiori informazioni e ti spiegherò tutto quello che c'è da sapere detto questo cominciamo allora come dicevo oggi parliamo di come annunciare una nuova canzone e ancora meglio come far venire voglia alle persone di ascoltarla in modo tale che quando poi uscirà la gente se la va ad ascoltare quindi quello che i giovani chiamano hype no quindi che la gente non vede l'ora è lì con la bavetta che sta aspettando la tua canzone e ricevere appunto commenti come questi che ti ho mostrato prima dove la gente appunto ti dice cazzo non vedo l'ora di ascoltarla ti prego pubblicala quando esce insomma c'è interesse c'è curiosità e di conseguenza quando poi la pubblichi la gente se la va ad ascoltare mentre spesso la situazione è che tu continui a dire che sta per uscire una canzone fai il tuo bel trailer con fuori il 27 settembre con quest'aura di mistero o facendo quello ultra professionale che se la tira e alla gente non gliene può fregar di meno e poi quando esce la canzone la gente non se la va ad ascoltare tu continui con nuovo singolo fuori ora nuovo singolo fuori ora e la gente non se l'ascolta allora ci fai anche un'inserzione sopra nuovo singolo fuori ora perde gli sconosciuti perché è inserzionata e gliene frega ancora meno e alla fine finisci a dare i 50 euro a quello che ti inserisce nella playlist fuffa piena di bot che ti intasa il profilo e rischi il ban quindi oggi cerchiamo di evitare tutto questo allora partiamo da cosa sbagli qual è l'errore l'errore che fanno tutti è quello di cercare di convincere o meglio obbligare la gente a fare quello che vogliono loro in questo caso ad ascoltare la canzone il problema è che il mondo funziona esattamente al contrario quindi più sembra che tu mi vuoi vendere qualcosa più tu mi vuoi obbligare a fare qualcosa più io vorrò fare esattamente il contrario ti faccio degli esempi se uno per strada vuole darti un volantino o vuole fermarti per venderti qualcosa la tua prima reazione è quella di scappare se i testimoni di geova vengono a citofonarti al citofono per convincerti di quanto la loro religione è meglio della tua tu li mandi a quel paese non gli rispondi non lo vuoi fare perché ti senti costretto ed entri in modalità difensiva se vai da una ragazza e gli dici ciao voglio fare sesso con te la ragazza non ti dice di sì se ti dice di sì ti devi preoccupare quindi perché perché non gli interessa quello che vuoi tu cioè è richiesto un corteggiamento è richiesto un altro approccio non si può andare direttamente al sodo quindi ogni volta che nella vita qualcuno cerca di obbligarti a fare qualcosa o cerca di venderti qualcosa o cerca di ottenere quello che vuole lui e non gli interessa quello che vuoi tu la tua risposta automatica è quella di andare in modalità difesa e non volere assolutamente quella cosa quindi più tu cerchi di convincermi più io non lo voglio fare e quindi se tu continui a dire ascolta la mia canzone fai questo fai questo oppure nuovo single fuori ora il nuovo single fuori ora non gli frega niente a nessuno semplicemente perché non è una notizia non mi dà un motivo per ascoltare la tua canzone cioè non mi hai convinto è come se tornando agli esempi di prima il testimone di Giova ti dicesse esiste anche un'altra religione buon per voi oppure l'esempio della ragazza tu dicessi ho un pene e non ho paura di usarlo e buon per te non me ne può fregare di meno cioè non funziona così mentre tutte le altre tecniche più tu mi dici ascoltalo 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 più ti dico no lasciami in pace che cosa vuoi ma chi ti conosce eccetera e se poi ci fai pure l'inserzione ancora peggio perché almeno se lo chiedi ai tuoi fan forse ma se lo mostri a degli sconosciuti tu io non ti conosco mi stai chiedendo mi stai quasi obbligando ad ascoltare la tua canzone ma cosa vuoi da me ma lasciami in pace io ti blocco fine e lo spam è ancora peggio cioè addirittura andare a mandare i messaggi privati alla gente per obbligarli ad ascoltare la tua canzone è veramente a parte triste cioè è una cosa veramente da pezzenti cioè stai elemosinando due ascolti veramente di una tristezza è come quelli che quando è il giorno del loro compleanno ti dicono ciao è il mio compleanno mi fai gli auguri cioè veramente che tristezza cioè non c'è nessuno che te li fa di sua spontanea volontà e me lo devi chiedere a me tra l'altro aperta parentesi tu che mi segui su instagram che segui il profilo di ronin dove da dieci anni faccio questa battaglia contro lo spam contro il nuovo single fuori ora e hai il coraggio magari dopo aver ignorato il mio dm di scrivermi dal nulla magari senza manco dirmi ciao e spammarmi la tua canzone cioè mi fai perdere fiducia nell'umanità perché almeno dai follower di ronin io non me l'aspetto questa cosa cioè almeno se hai imparato una cosa in questi dieci anni mi aspetto almeno la decenza di non spammare e invece c'è gente che spamma non ce ne frega niente della tua canzone non funziona così non è una notizia che hai fatto una canzone basta è triste lo spam è una cosa da dodicenni basta sarebbe come andare a scrivere a tutte le donne che trovi su instagram chiedendo di trombare cioè è una cosa triste basta quindi più tu cerchi di convincere la gente più spammi più non funziona cos'è che invece funziona funziona fare il contrario cioè la comunicazione così come anche il marketing che altro non è che è psicologia applicata funziona al contrario quindi anziché cercare di convincermi tu dovresti far finta che a te non interessa che io l'ascolti e trovare un escamotage per farmi venire voglia a me quindi mi viene in mente Tom Sawyer ad esempio che era un libro, un film, non mi ricordo tutte e due probabilmente dove lui doveva dipingere la staccionata ma non aveva alcuna voglia quindi una volta che ha i suoi amici attorno stiamo parlando di un bambino si mette a dipingerla e fa finta che gli piaccia tantissimo cioè fa finta che sia una figata colossale così gli altri che guardano dicono ma posso dipingerla anch'io ti prego fammela dipingere anche a me e alla fine gliela fa dipingere a loro quindi questo è il marketing così come se io cercassi di convincerti ad uscire con mia cugina tu penseresti che mia cugina è brutta perché altrimenti non me lo offriresti no? ma se io facessi finta invece di parlare con qualcun altro mentre tu sei lì che mi ascolti e dico oh sai che mia cugina è proprio gnocca eppure non riesce a trovare un ragazzo è incredibile tu ti proporresti questo è il marketing ci vuole un po' di saggezza un po' di arguzia, di furbizia cioè tu devi far venire voglia all'ascoltatore di ascoltare la tua canzone non devi essere tu obbligarlo perché se sei tu che vai da lui passi da bisognoso, da pezzente così come quando vai da un locale ti prego fammi suonare non ti faccio suonare se ti faccio suonare ti do due euro perché sei tu che me l'hai chiesto se invece tu attiri quello che vuoi far venire voglia a loro se hai il locale che ti chiama poi ti paga e se hai il fan che arriva è contento di averti scoperto lui quindi dobbiamo fare questo e come si fa? si fa che anziché andare dritti al sodo e dirmi ho fatto una canzone ascoltala che non me ne può fregare di meno e non mi stai dando alcun motivo per farlo dovresti farmi venire la voglia di ascoltarla con varie tecniche ci sono mille modi me la fai ascoltare direttamente me ne parli me la descrivi mi dici perché dovrai ascoltarla mi spieghi come è nata me la racconti mi fai vedere qualcuno che la ascolta e che reagisce bene e quindi mi ve ne voglia anche me e così via quindi ci sono tanti modi saggi di fare le cose che rientrano sotto il nome di marketing e poi c'è chi invece pensa che il marketing non serva e quindi ha la geniale idea di dire ma perché io dovrei usare queste formule quando posso semplicemente dire alla gente di fare quello che voglio io e loro lo fanno peccato che non lo fanno se bastasse dirlo io ogni giorno farei un contenuto dicendo dammi 100.000 euro e tu una volta che vedi il contenuto mi devi dare 100.000 euro t'ho fregato l'hai letto basta peccato non funziona così cioè sarebbe come dire come risolvere la fame in Africa dicendo mangiate cioè è un po' più complessa la situazione quindi il motivo per cui ti ignorano quando dici nuovo single fuori ora o quando dici ascolta la mia canzone è che tu stai cercando di obbligare le persone a fare quello che vuoi tu e quindi loro scappano se vuoi che loro facciano quello che vuoi tu devi fargli venire quella curiosità quella bava che è quella che leggi nei commenti sotto i miei post in modo che siano loro a volerlo e allora saranno loro a chiederti la canzone e allora la pubblichi e questo si fa con le tecniche che ti ho detto che ovviamente non ti posso spiegare qua facciamo un affiancamento di tre mesi per quel motivo perché te le devo insegnare e ti devo guidare finché non le impari come Dio comanda ma una volta che ci riesci oltre a fare un sacco di views sotto i tuoi reel di Instagram e ne ho parlato ieri e oltre ad aumentare i tuoi ascolti su Spotify e ne ho parlato l'altro ieri ottieni anche l'interesse da parte del tuo pubblico e allora sì che ha senso pubblicare le tue canzoni se c'è gente che ti segue e che le sta aspettando ma se tu non hai gente che ti segue o ce l'hai ma nessuno gliene frega niente di ascoltare la tua nuova canzone cosa la pubblichi a fare e tu mi puoi dire ma la pubblico per me se la pubblichi per te non hai bisogno di pubblicarla te l'ascolti tu risparmi un sacco di soldi se la pubbliche perché vuoi che qualcuno l'ascolti ma attualmente evidentemente nessuno è interessato quindi dobbiamo risolvere sta benedetta situazione quindi prima si trova l'identità dell'artista si ottimizzano i suoi canali si impara a creare contenuti a costruire una fanbase poi quando stai per pubblicare la tua canzone si fanno dei contenuti adatti a creare la curiosità e l'interesse e quando la gente non vede l'ora non ne può più si sta per strappare i capelli per ascoltare la tua canzone allora la pubblichi è il risultato che se la vanno ad ascoltare e poi con queste tecniche puoi continuare a tenere alto l'interesse anche una volta che hai pubblicato le tue canzoni senza tutto questo sei tu artista come tutti gli altri con pochi follower quindi a livello di percezione non visto così bene dalla gente che pubblica l'ennesima canzone senza saperla raccontare senza far venire voglia alle persone senza saperla promuovere che risultato otterrai secondo te? quindi questo era quello che volevo dirvi oggi e sono molto contento dei contenuti di questa settimana perché ho un sacco di casi pratici cioè vi sto spiegando vi sto mostrando quello che sta succedendo a me e che sto facendo io quindi meglio di così non si può perché mi hanno diciamo nel corso degli anni spesso mi contestavano dicendo eh ma se funziona allora dove sono i risultati eccetera eccetera quindi bisognava credermi sulla parola tra virgolette adesso finalmente ho anche i risultati quindi non c'è più da credere ma basta guardare per cui ancora una volta se vuoi imparare anche tu questa sacra arte del marketing tipo Divina Scuola di Okuto che ti permette di aumentare i tuoi numeri sia su Spotify che su Instagram e far venire voglia alle persone di ascoltare la tua musica scrivimi info su Instagram nei DM che ne parliamo oppure prenota direttamente una call gratuita dal link in descrizione detto questo io ti do appuntamento a domani per l'ultimo video di questo podcast poi ci fermiamo per la pausa estiva e ci rivediamo probabilmente a settembre ciao guerrieri grazie a tutti